Nel corso del video di oggi andiamo nuovamente a cercare di migliorare la nostra tecnica fotografica andando a esaminare le foto di uno di voi che me le ha coraggiosamente inviate. Nel caso ve lo steste domandando, per partecipare quello che bisogna fare è molto semplice, ovvero mandarmi in DM su Instagram un messaggio per segnalarmi che si vuole procedere e un link permanente con le immagini. La cosa migliore è utilizzare piattaforme come Google Photos o Amazon Photos, che sono piattaforme dove possiamo mettere alcune foto e lasciarle lì permanentemente fino a quando io non vi dico che ho fatto il video e quindi le potete andare a cancellare. Vi dico questo perché se mi mandate un link che scade io poi non faccio in tempo perché non sono costante e faccio questi contenuti nel momento in cui ho il tempo di farlo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia. Nel corso del video di oggi, come detto, andiamo a esaminare il portfolio o comunque la selezione di foto di uno di voi che mi ha coraggiosamente mandato. Adesso ci tuffiamo nel mio computer e andiamo a commentare insieme le immagini. Ok, io cerco di tenervi i metadati nella finestra di fianco così riusciamo a vedere l'immagine e abbiamo un minimo di infarinatura su come è stata fatta. Qui in realtà di metadati non c'è tanto, vediamo solo le dimensioni. Partendo da quest'immagine ci sono delle cose che funzionano, ce ne sono altre che secondo me potevano essere gestite meglio. Ovvero, mi rendo conto che uno arriva e trova la scena così e mi rendo conto che è anche bello catturare l'inquadratura così come l'abbiamo vista arrivando. Perché ci sta? Quello che a me personalmente non convince è questo tronco che è molto carino messo praticamente nel centro, tutto quello spazio vuoto sul lato dove sì, c'è il sole che però mi disturba in realtà. Quel bagliore così che mi richiama l'occhio sul lato sinistro della foto mi disturba perché in realtà non c'è niente lì. Io avrei provato a muovermi più a sinistra quindi avrei escluso quel bagliore del sole sull'oceano e avrei preso il tronco tutto sulla sinistra, l'imbarcazione tutta sulla destra e avrei cercato di catturare l'ombra del tronco per intero avendo dietro soltanto cielo. Io me la sarei giocata così. Il bianco e nero comunque è bello. Quindi direi per quanto riguarda la lavorazione e tutto quanto vedo che c'è della lavorazione perché è abbastanza evidente al di là del bianco e nero sono state fatte delle cose però sono state fatte secondo me in maniera appagante quindi su quello non ho granché da dire. Procediamo con questa seconda immagine. Allora effetto Sin City con il bianco e nero e un colore di accento la tecnica ci sta a livello puramente tecnico va bene. Io qui ho solo una considerazione da fare. Dobbiamo sempre quando facciamo una roba del genere secondo me dobbiamo sempre domandarci per il nostro bene dobbiamo sempre domandarci questa foto funzionerebbe anche senza questo effetto perché la mia considerazione è se la foto senza questo effetto non funziona potevamo fare di meglio. In particolare qui ci sono un paio di cose che a me non fanno impazzire le verticali che non sono dritte questo da fotografo di interni è una cosa che non mi piace cioè io l'avrei scattata dritta e anche se l'avessi scattata storta l'avrei raddrizzata in post mi avrebbe dato un'idea più compatta più granitica oppure se proprio vogliamo lavorare con le verticali storte le avrei stortate di più a quel punto perché storte di così poco sembra una cosa trascurata non sembra una cosa fatta apposta in secondo luogo il soggetto quel colore di accento è così lontano che secondo me un po' si perde quindi io avrei provato a fare e poi quei tombini per terra non trovo che mi stiano aggiungendo chissà che io avrei provato a fare due passi avanti e tenere le verticali dritte io però lasciatemi sapere nei commenti voi che cosa ne pensate perché magari invece a molti di voi piace così com'è tiriamo avanti e qui abbiamo un classico paesaggio marittimo con direi che qui la cosa più interessante è cercare di capire che cosa sia questa strana costruzione sulle palafitte che sembra una roba per pescare io non sono un lupo di mare quindi non me ne intendo però mi sembra una roba fatta per pescare è carina diciamo il contesto è carino le nuvole sono belle io forse avrei provato ad avvicinarmi a quell'affare lì forse da vicino magari da sotto qui si che si sarebbe potuta stortare però diciamo questo è un paesaggio classico con tutto bello dritto tutto in bolla funziona non ho particolari cose da fare una persona in piedi di fianco alle palafitte secondo me avrebbe aggiunto quel po' di pepe in più però insomma considerazioni che lasciano il tempo che trovano perché quella è la scena ce la troviamo così magari abbassarsi e prendere uno spruzzo delle onde idee idee che butto lì l'immagine di per sé funziona solo che è difficile entrare in un'immagine di questo tipo perché è molto così cartolina dimostrativa è difficile entrare c'è poco pathos è molto descrittiva ecco secondo me qui siamo chiaramente al pantheon di roma che ho visitato anch'io e che anch'io ho fotografato con non vedo informazioni sull'obiettivo che è stato utilizzato io l'ho fotografato col fisheye e credo che sia impossibile ottenere questa ampiezza senza un fisheye quindi credo che sia stata scattata con un fisheye anche questa non è un contesto facile quello del pantheon perché dentro è buio e fuori è così luminoso che è impossibile catturare l'interno e avere il cielo azzurro fuori quindi probabilmente sto cielo era anche azzurro però viene bruciato ed è normale così la foto non è male l'ho fatta anch'io questa foto l'ho fatta anch'io identica mi rendo conto che entrare nel pantheon è veramente difficile fare qualcosa di diverso da questo perché non c'è lo spazio c'è gente dappertutto quindi in questo caso credo che veramente non si sarebbe potuto fare meglio di così procediamo e siamo ancora a Roma dunque a questo punto direi raro scatto del colosseo libero senza automobili davanti chissà che ora è stato fatto a giudicare dalla luce direi che è stato fatto subito dopo l'alba o subito prima del tramonto perché mi sembra di vedere una lama di luce mi domando se sia l'alba o il tramonto e non me lo ricordo in geografia sono debolissimo e non mi ricordo da che parte sorge a Roma il sole non me lo ricordo però a giudicare dall'assenza totale di persone direi l'alba che probabilmente c'è meno gente all'alba l'immagine non è male è realizzata bene mi rendo conto che quando vai a Roma non è che puoi fare chissà che arrivi lì ti trovi questa scena la fai il colosseo comunque è sempre bello fa sempre il suo effetto non è particolarmente effetto wow ecco anche qui è molto descrittiva siamo lì colosseo il fatto che ci sia questa strada davanti non è bellissimo secondo me ci sono angolazioni più appaganti del colosseo se si va a farla da non mi ricordo dove ma quell'altra angolazione dove invece di prendere la strada si prende il selciato con le mattonelle quello è più carino come foreground secondo me perché questa strada con le strisce a meno che non si volesse dare un'idea precisa la strada così la carreggiata con le strisce non è bellissima da vedere certo ti dà un'idea del vecchio e del nuovo i colori sono giusti secondo me è un HDR è probabile che sia un HDR da quello che vedo però mi aspetto poi magari che l'autore ci commenti qualcosa sotto magari dandoci qualche delucidazione in più ecco proseguiamo e qui abbiamo la reggia di caserta io non sono mai stato alla reggia di caserta anche se mi incuriosisce perché ho visto foto di altri e sembra veramente spettacolare con questi giardini che mi ricordano quasi un po' il Louvre che dire in questo caso non riesco a capire se ci sono allineamenti che potevano essere fatti meglio mi spiego è possibile è possibile che la linea della fontana e il tetto della reggia sullo sfondo siano naturalmente disallineati fra loro perché le architetture non sono perfette poi dopo tanto tempo si assestano e in questo caso non so forse è l'orizzonte con le montagne che mi dà l'idea che si sarebbe potuto allineare un po' di più quindi in questo caso io sono anche faccio tanta fotografia di interni quindi per me è normale andare a guardare le linee e in questo caso io forse le avrei raddrizzate un pochino però dovrei verificarlo perché magari invece sono dritte mi danno l'idea di essere un po' storte ma perché appunto sono architetture vecchie che magari si sono stortate col tempo per il resto devo dire l'immagine non è male io forse avrei cancellato le persone qua perché sarebbe cioè è facile qui avrei cancellato le persone ma senza usare la I avrei usato giusto il timbro clone per cancellare le persone per avere tutto pulito mi avrebbe dato un'idea più di pulizia più di esclusività per il resto direi l'esposizione è corretta una cosa che non mi fa impazzire è l'ora del giorno in cui è stata scattata perché qui vedete molto chiaramente che abbiamo abbiamo il sole quasi contro e quindi abbiamo delle ombre molto nette la maggior parte dei soggetti sono in ombra se avessimo scattato in un altro momento della giornata posto che poi non ci sono mai stato magari la luce è la migliore in tutto il giorno questa però secondo me si poteva trovare un momento e mi rendo conto che uno è lì in vacanza sta visitando in quel momento non è che dici alle persone con cui sei ai tuoi cari sentite adesso stiamo qua tutta la giornata perché devo fare sta foto fra sei ore no non lo fai quindi me ne rendo conto se ci fosse stato il sole a favore secondo me avrebbe reso di più il sole su queste statue secondo me le avrebbe illuminate portando fuori una tridimensionalità un po' più spinta ecco proseguiamo e qui siamo a Pompei beh insomma qua niente da dire la foto anche qui io la vedo un po' stortina perché ci sono questi capitelli che non sono perfettamente dritti io le avrei raddrizzate ovviamente mi rendo anche conto che Pompei è un'architettura che probabilmente dritta non è cioè gli è colata sopra l'eruzione di un vulcano quindi non ci si può aspettare che sia particolarmente dritta di nuovo questa è descrittiva però in questo caso secondo me ci sta molto che sia descrittiva perché qui è un contesto no anzi vi dirò di più questa in realtà mi piace perché ci sono più piani di lettura abbiamo questo questo faccione screpolato in primo piano che è bene a fuoco l'esposizione in questo caso direi che è perfetta perché abbiamo la lettura giusta sul primo piano abbiamo la lettura giusta sulle nuvole dietro vedete che cosa cosa dicevo sull'immagine prima qui abbiamo il sole nella posizione giusta e quindi la statua in primo piano è esposta perfettamente e questo ci consente di avere l'esposizione perfetta anche sullo sfondo anche sul vulcano dietro suppongo sia il vulcano e anche sulle nuvole nell'ultimo piano di lettura esposizione perfetta e qui sicuramente va bene è merito di chi ha scattato ma questo è dato dal fatto che è stata fatta la foto all'ora giusta all'ora perfetta ci sono delle ombre un po' marcate ma è pienamente accettabile in questo caso perché la luce è quella e la lettura è totale sul 99% dell'immagine quindi in questo caso va molto bene proseguiamo scatto classicissimo simmetrico a me piacciono queste cose ok a me piace la simmetria in questo caso mi domando se sia un HDR o se ci sia uno sviluppo digitale molto buono perché direi che i dettagli sono pienamente leggibili su tutto il fotogramma mi piace molto il cielo dietro belle le montagne belli piani di lettura diciamo a me questa foto piace molto mi rendo conto che rimane questa è un mero esercizio di stile molto didascalico perché di fatto non c'è niente in questa foto cioè sì c'è una panchina ci sono delle montagne e io so che è il parco fluviale fiume Serchio perché lo leggo nella didascalia però è un'immagine che racconta molto poco se non il desiderio del fotografo di mettersi alla prova appunto su un esercizio molto didattico l'immagine è bella però il soggetto racconta veramente molto poco ecco ecco qui invece la situazione cambia un po' perché qui abbiamo una bellissima collina con degli ulivi parliamone un attimo perché l'esposizione perfetta il trattamento dell'immagine se ce n'è stato anche qui direi buono perché comunque vedo leggibilità su tutto il fotogramma forse un recupero un po' troppo spinto delle ombre io qui le avrei lasciate un po' più marcate le ombre perché così lo vedo che potrebbe esserci stato un recupero in una fotografia senza recupero mi aspetterei delle ombre più marcate anche con i miei occhi mi aspetterei delle ombre più marcate quindi sarei stato un pochettino più indietro col recupero delle ombre perché così va bene però un occhio allenato tende a pensare che ci sia stato un recupero delle ombre io se posso fare una post-produzione invisibile preferisco l'altra cosa è tutto questo primissimo piano con con questo verde io trovo che aggiunga molto poco io l'avrei segato via tutto avrei preso solo la collina avrei zoomato magari fatto un dettaglio della collina oppure mi sarei avvicinato a fare la collina o mi sarei abbassato alzando l'inquadratura per prendere la collina sotto con più cielo sopra quel verde sotto secondo me aggiunge veramente poco la collina è molto bella ma io avrei fatto collina cielo e tutto quel quel verde davanti che non capisco neanche cos'è non capisco cosa sono girasoli non vedo bene però io l'avrei tolto trovo che aggiunga poco alla scena mentre più cielo avrebbe donato qualcosina di più secondo me poi magari c'erano i cavi della luce e questo è il motivo per cui è stata scattata così io tiro sempre a indovinare ma poi la foto l'avete fatta voi e sapete voi meglio di me perché l'avete fatta così io butto solo lì le mie riflessioni proseguiamo e qui abbiamo un airone credo non sono una vifaunista quindi non sono molto pratico fatemi sapere nei commenti se ho accannato mi sembra un airone l'immagine direi che è bella mi sembra a fuoco correttamente c'è una bella simmetria specchiata sull'acqua niente da dire non diciamo che mi rappresenta un momento di natura di cui non capisco null'altro quindi suppongo che sia proprio soltanto un ritratto specchiato dell'airone senza particolare contesto se non una situazione di lago o di fiume perché francamente non riesco a capire di che tipo di corso d'acqua si tratti esposizione anche qui direi che è perfetta sembra scattata all'albo oltramonto quindi l'ora dovrebbe essere quella giusta un buono scatto dove mi rendo conto che probabilmente sarebbe stato molto difficile fare meglio di così andiamo avanti e qui siamo a New York infatti mi pareva non capisco da dove è stata scattata perché non sono mai stato a New York però mi sembra da un piano rialzato e allora mi domando se non sarebbe stato possibile tiltare un pochino l'inquadratura in maniera tale da avere le verticali dritte se fosse stato possibile qui avere le verticali dritte senza segare la capocchia degli edifici che vediamo sullo sfondo secondo me sarebbe stato meglio perché così vedete le linee verticali che tendono un po' a collassare verso l'alto architettonicamente non è molto appagante per il resto mi rendo conto che con un singolo scatto probabilmente non si poteva fare meglio di così in un contesto ideale io qui avrei tenuto linee dritte e poi avrei fatto tre piede HDR per non avere perdita di dettaglio sui cartelloni pubblicitari che chiaramente sono bruciati perché con uno scatto singolo la fotocamera non ce la può fare in un contesto del genere dobbiamo per forza fare HDR io avrei fatto HDR e non solo forse avrei fatto in un contesto veramente ideale dove avevo tutto il tempo del mondo e potevo fare tutto quello che volevo che non è detto sia il contesto in cui è stata scattata magari è stata scattata a run and gun al volo ovviamente in un contesto ideale io avrei fatto tre piede HDR per i cartelloni e poi avrei fatto un'esposizione a parte una posa lunga per avere le persone mosse con l'effetto seta le macchine mosse con l'effetto seta così veniva una cannonata però chiaramente non è detto che fosse possibile farlo da quella posizione anzi probabilmente non te lo lasciano fare qui abbiamo una veduta di Manhattan dal fiume con il ponte ragazzi stessa identica cosa ovvero qui io non capisco come è stata scattata non ho a disposizione dei veri e propri metadati vedo soltanto la risoluzione che non mi basta chiaramente per giudicare però vedendo l'acqua a me sembra che questo sia uno scatto singolo fatto a mano libera perché se fosse stato fatto con tre piede penso che la posa sarebbe stata più lunga e l'acqua sarebbe stata più mossa quindi la mia considerazione è io qui l'avrei fatta su tre piede appoggiandomi sul muretto ma anche senza portarsi il tre piede però a me sembra di vedere un corrimano io appoggiandomi sul muretto appoggiandomi da qualche parte avrei fatto una posa lunga HDR con un'esposizione più lunga per avere magari ISO più bassi e per avere l'effetto dell'acqua mossa sarebbe venuta secondo me molto più appagante perché avremmo avuto più dettagli nel cielo più dettagli sui grattacieli sulle luci dei grattacieli che così chiaramente sono bruciate sono piccole cose però secondo me un HDR qui tirava fuori molti più dettagli e ci dava la possibilità di decidere in post essendo più incisivi Flatiron di New York famosissimo in questo caso mi rendo conto che probabilmente meglio di così non si poteva fare perché non è una foto facile e qui non ci si può allontanare più di tanto perché sennò abbiamo cose che ci vengono davanti in questo caso veramente non so come si sarebbe potuta fare meglio di così anche se vi dico una cosa io sarò fanatico però io in questo caso mi rendo conto che non si poteva scattare dritta perché scattarla dritta vuol dire tiltare quindi segargli la parte superiore però io l'avrei comunque raddrizzata in post produzione l'avrei comunque raddrizzata a costo di perdere un po' di risoluzione ai bordi ma avrei comunque provato a raddrizzarla perché una foto di questo tipo che è architettonica secondo me dritta rende di più per il resto l'esposizione mi sembra molto bella mi domando se sia un HDR mi domando se le nuvole sullo sfondo siano state tirate dentro con l'HDR oppure se sia un recupero me lo domando non ho modo di saperlo globalmente funziona io l'avrei solo raddrizzata scatto della luna io qui mi commuovo facilmente perché sapete sono molto affezione ho addirittura il moonswatch moon phase quindi sapete io con la luna mi emoziono facilmente giuro che non l'ho messo apposta non avevo guardato le foto prima di quindi mi emoziono facilmente vedendo il nostro satellite qui c'è un trattamento di colore con cui non so se sono d'accordo lo scatto va bene e poi in poste si può fare quello che si vuole quindi avendo il file si può anche trattarlo in altra maniera io qui vedo una componente gialla seppia e non capisco se era una colorazione naturale data dal fatto che magari era una luna gialla una luna rossa oppure se è un trattamento eseguito in post e l'unica cosa che posso vedere è che è stata scattata con un 600 mm e che va benissimo molto molto buono come scatto non è non è facilissimo fotografare la luna ci vogliono le condizioni giuste la strumentazione giusta in generale mi piace questo giallo non mi fa impazzire se sapessi che è una luna gialla allora direi allora va bene però mi sembra di intuire invece che è un trattamento postumo e in questo caso la mia considerazione è io l'avrei lasciata neutra l'avrei lasciata come la vediamo con gli occhi perché se è una luna rossa o una luna gialla la fotografi gialla e va bene però l'avrei specificato in questo caso invece se è una luna normale io la lascerei normale bianca come la vedo veramente con gli occhi magari era così nel cielo e io vedendola così mi viene da pensare che normalmente la vedo più bianca ah attenzione qui abbiamo uno scatto di interni molto carino maestro profumiere figata queste robe mi piacciono da matti maestro profumiere quindi qui abbiamo il tavolo di un naso che probabilmente sta facendo delle cose sta tirando fuori delle fragranze questo è molto bello e chiaramente qui forse mi piace più il contesto che la foto in sé anche se la foto comunque non è fatta per niente male anche qua sempre stessa cosa a me capita di andare nelle attività di lavorare per le attività e quindi io posso portarmi la mia strumentazione e fare quello che voglio in un contesto del genere io avrei fatto un HDR da due miliardi di step per avere tutti i dettagli presenti per avere le lucine del lampadario senza dettagli bruciati e non è detto che non sia stato fatto perché mi sembra di vedere una gamma totale difficile da catturare con uno scatto solo quindi forse è anche stato fatto un HDR qua la foto in generale mi piace molto ha un'atmosfera che mi ricorda un po' in ottambuli di hopper quindi bello come mood molto bello mi sembra che ci siano delle linee storte dovrei controllare mettendo le griglie sopra però se la scrivania fosse stata dritta e le verticali fossero state dritte e a occhio non lo sono se fosse stato tutto dritto secondo me la foto sarebbe molto più granitica e ancora più potente si può ancora fare sono cose che si possono sistemare anche in post si può semplicemente raddrizzare la foto in post quindi nulla è perso c'è un qualcosa in basso che non riesco bene a capire che cos'è ma sembra la testa di una persona no non è una testa forse è il bracciolo di una poltrona di una sedia cioè quella cosa tonda in basso che non capisco che cos'è e mi disturba cioè la foto è tutto molto bello quella roba lì che non capisco se è un orecchio di una persona rasata o il bracciolo di una poltrona veramente non capisco faccio fatica io quella roba lì che probabilmente è una poltrona l'avrei spinta un po' più avanti cioè o la togli del tutto o fai un passettino avanti e quindi la escludi dall'inquadratura oppure la spingi dentro prendendola avrebbe dato una bella macchia di colore avere un se fosse veramente una poltroncina di pelle avrebbe dato una bella macchia di colore vedere una poltroncina lì secondo me comunque bello scatto sono invidioso avrei voluto andarci anche io qui qui abbiamo Madrid palazzo di cristallo carina molto poco da dire se non che in questo caso mi sembra uno scatto simmetrico ma non riesco a capire no no ok lo scatto probabilmente è giusto lo scatto è simmetrico lo vedo dalle finestre ai lati però c'è l'ombra che ti porta l'occhio fuori quindi sembra meno simmetrica perché l'ombra non casca simmetrica diciamo che anche qua non si poteva fare molto meglio di così se non a me sembra di vedere sempre delle verticali non perfettamente dritte e in questo caso è veramente un peccato perché bastava tiltarla di mezzo decimo di grado sarebbe stata perfettamente dritta e non avremmo perso niente perché non tagliavamo nulla sopra la correzione necessaria per avere le verticali dritte non ci faceva tagliare l'arco nella parte superiore quindi è veramente una piccola disattenzione questa e potevamo avere la foto perfetta già in macchina avendola scattata così io l'avrei comunque raddrizzata in post che si può fare perdendo veramente poco quindi io comunque l'avrei raddrizzata qui abbiamo lucca qui ragazzi io a lucca sono stato questa è veramente impossibile scattarla in altra maniera perché i vicoli sono stretti o la prendi da lontano da un punto sopraelevato o se no se la devi fare da sotto la fai così anche qua mi domando se sia un hdr o un recupero perché mi sembra che ci siano delle zone di esposizione molto diverse se è un hdr bel lavoro perché probabilmente è stato fatto a mano secondo me c'è poco da dire qui la foto è giusta va bene così perché qui veramente ci sono poche possibilità mi piace che non ci sia gente io preferisco quando non c'è gente quindi probabilmente è stata scattata molto presto piazza di lucca probabilmente con un fisheye questa probabilmente l'ho fatta anch'io quando sono andato e anche qui c'è poco da dire questa ci sono pochi modi di farla anche qui apprezzo che non ci sia la gente mi piace il fatto che si veda tutta la corte come la vogliamo chiamare l'esposizione mi sembra buona perché comunque in post si è riusciti a recuperare sia le luci che le ombre quindi anche qui direi veramente poco da dire non è una foto classica le foto col fisheye sono sempre un po' storte un po' ti danno quell'idea di storto di non dritto però è una foto fatta così cioè quando usi il fisheye viene così quindi è giusta non me la sento di sindacare su niente su questa di nuovo Luca ma questa volta scattata di notte e dritta questa è abbastanza dritta quindi la preferisco mi piace che non ci sia gente qui l'HDR avrebbe fatto tutta la differenza del mondo un bel 7 stop per recuperare i lampioni e non avremmo avuto quelle macchie bianche con perdita di dettaglio e non avremmo avuto il cielo così nero un HDR qui l'avrebbe resa molto più potente mi domando perché io vedo le linee della pavimentazione che curvano quindi mi domando se sia stata fatta con il fisheye raddrizzata in post è probabile che sia andata così perché quelle linee che curvano in quella maniera non me la contano giusta non c'è niente di male è solo una riflessione che faccio attenzione Luca notte agli archi personalmente credo che questa finora sia la più bella che abbiamo visto a gusto mio è una questione puramente soggettiva personalmente questa è quella che mi piace di più non riesco a capire che cosa è stato fatto ma secondo me questo è un time blending secondo me è stato scattato l'arco a ore diverse del tramonto e quella luce che vediamo è la luce del sole e poi è stata fatta un'ulteriore foto per catturare la volta celeste stessa cosa per il pino marittimo che c'è lì di fianco mi sembra catturato con la luce del giorno mentre poi invece il cielo è notturno se fosse così complimenti per la tecnica bel risultato un po' forte forse è un po' troppo vibrante io l'avrei tenuta un pochino più scura per mantenere più realismo perché così se è effettivamente un time blending si vede molto che è un time blending se il cielo fosse stato più scuro un'esposizione un pochettino più limitata e anche il recupero delle ombre sull'architettura se fosse stato un pochettino più indietro con un po' più di toni scuri secondo me sarebbe stata più credibile perché così è bella però è evidente che è stata toccata io cerco sempre di optare per una post produzione invisibile andiamo avanti qui abbiamo di nuovo lucca questo di nuovo è uno scatto simmetrico che però di nuovo secondo me racconta poco faccio anche fatica a capire cioè il soggetto principale qui qual è il portico sotto qui stiamo o il viale in ogni caso faccio fatica a immergermi in una foto di questo tipo perché sì conoscendo il posto lo riconosci va bene però è simmetrico l'esposizione è quanto più bilanciata possibile tra il fuori molto luminoso e il dentro un po' scuro però rimane molto da scalica secondo me ci può stare però racconta poco mi emoziona poco ecco ma questo succede spesso con le foto simmetriche qui sostanzialmente stessa cosa qui abbiamo un tentativo di simmetria con panchina e alberi gli alberi sono storti ma in questo caso fa niente perché gli alberi sono storti di loro l'esposizione va benissimo cielo e terra sono esposti meravigliosamente di nuovo è una foto che secondo me con tutto così lontano è una foto che racconta poco ed emoziona poco secondo me se ci fosse stato un elemento più vicino per portarmi dentro a questa scena avrebbe raccontato di più e emozionato forse anche di più è una foto mi pare di intuire autunnale quindi stiamo parlando probabilmente dell'autunno ci sono anche forse delle foglie che volano io vedo qualcosa che vola o sono uccelli diciamo che è un'immagine che mi emoziona poco è tecnicamente giusta però mi emoziona poco per l'inquadratura sempre lucca e qui abbiamo una visione simmetrica verticale del canale questa funziona molto invece perché abbiamo un punto di fuga potente che mi porta dentro nell'immagine con questa questa esposizione che mi sembra rapida non mi sembra un'esposizione lenta perché vedo il movimento dell'acqua quindi secondo me questa funziona molto di più mi piace tantissimo che non ci sono persone è un po' curva c'è un po' di distorsione dell'obiettivo mi sembra di vedere oppure sono le case di lucca che essendo molto vecchie magari non sono drittissime io di nuovo anche lì forse l'avrei raddrizzata un pochino ma va bene così questa secondo me è una foto che funziona di nuovo lucca di nuovo portici bello questa è dritta ragazzi vedete come questa è dritta non ho niente da dire vedete come è più è più granitica quando è dritta punto di fuga al centro perfetta l'esposizione bellissima ci sono le biciclette al centro che mi richiamano l'occhio questa è molto bella a livello di composizione secondo me questa è quella composta meglio che abbiamo visto finora qui siamo a Londra io sono molto affezionato a Londra questa sono abbastanza sicuro che sia stata realizzata su tre piede perché per avere le stelline nei lampioni così a un'esposizione di questo tipo di notte secondo me questa è una posa lunga a questo punto posa lunga che va bene esposizione tutto buono mi rendo conto che qui è storta ma per un motivo perché è stata scattata dal basso quindi ci sta non ho nulla da cavillare su questo però io qui avrei fatto un hdr a maggior ragione che eravamo su tre piede avrei fatto un hdr per avere più dettagli per il resto va bene sempre londra e questa qui non credo che sia un hdr perché c'è roba in movimento però c'è un recupero molto incisivo molto efficace perché vedo addirittura il cielo dietro mi sembra una foto che funziona globalmente i colori sono molto belli il trattamento dell'immagine funziona forse io sarei stato un pelino più giù per non tagliare quel pezzettino di marciapiede per dare un po' più di aria alle ruote del double decker piccole cose diciamo che globalmente questa foto funziona va benissimo equiterme qui abbiamo questo dettaglio di questa porticina con questo rampicante sì funziona globalmente funziona probabilmente io avrei centrato un pochettino di più porticina e rampicante perché così la vedo tutta molto spostata su un lato e invece forse l'avrei tenuta un pochettino più centrata però queste sono cose anche personali e magari c'era qualcosa sull'altro lato che disturbava ed è stata scattata così proprio per quel motivo panorama panorama in cui a me qui sembra di vedere io mi domando se non sia scattata a pellicola questa spero che ci siano dei chiarimenti poi nei commenti a me questa sembra scattata a pellicola da quello che vedo dal mood mi sembra scattata a pellicola e vi dirò di più vedo tantissimo blu in lontananza e questi secondo me sono i famosi raggi UV per cui si usano i filtri UV sulle nostre macchine se dovesse essere così è sicuramente pellicola perché in digitale non si nota più questo effetto globalmente è una bella foto mi sembra che sia stata anche una faticaccia arrivare fin lassù per scattarla ci sono diversi piani di lettura c'è un primo piano roccioso attraverso cui guardiamo una strada poi primo strato di montagna e secondo strato di montagna innevate e poi cielo una bella immagine può essere una bella cartolina io forse proverei a correggere un po' quel blu che mi sembra molto forte molto intenso proverei a tirarlo un pochettino indietro però soggettivo e attenzione ragazzi cometa neowise io non sono un astrofotografo quindi non me ne intendo neanche però a livello tecnico credo che questa sia potrebbe essere la fotografia più appagante di quelle che abbiamo visto finora perché beccare una cometa così io non l'ho mai fatto io non ci sono mai riuscito un po' di invidia bella foto sicuramente valore storico documentaristico mi sembra anche fatta bene cioè sposta nel migliore modo possibile perché è una cometa quindi non è che possiamo fare HDR o altre robe qua qui come la prendi la prendi direi bello scatto e su questa c'è veramente poco da dire torniamo alla simmetria queste sono cose che faccio anch'io simmetria HDR per il dentro e per il fuori io qui forse avrei osato un pochino più col contrasto scusate col contrasto con la saturazione avrei saturato un pochettino di più quei blu e quei verdi mi avrei tirati fuori un pochettino di più anche qui quindi è una foto che fa fatica a emozionarmi perché anche se so che è Civitella del Tronto perché lo vedo nella didascalia però mi emoziona poco mi emoziona poco perché comunque sì è una cornice intravedo qualcosa però faccio fatica a entrare veramente nella vicenda quindi è una bella foto ricordo può essere una cartolina del luogo però secondo me difficilmente emoziona una foto di questo tipo le simmetriche è difficile che emozionino sono poco dinamiche sono molto statiche quindi secondo me emozionano meno piuttosto che quelle composte con la regola dei terzi cava di valsora ecco questo io qui ci sono sempre voluto andare non ci sono mai riuscito questa secondo me è molto bella qui la foto era già fatta la foto era già lì nel posto qui c'è poco da dire secondo me questa è perfetta l'esposizione è perfetta l'inquadratura penso che sia abbastanza obbligata perché vedo dell'acqua quindi mi sa che più avanti non si può andare avrei voluto vederla anche verticale questa avrei voluto vedere più pavimento e più cielo in questo caso io non amo il verticale però in questo caso avrei voluto vedere di più di sopra e di più di sotto che cosa veniva fuori le avrei provate entrambe però comunque magari sono state fatte ed è stata poi scelta questa bei colori bel posto sì questa mi convince abbastanza probabilmente stando lì l'avrei fatta quasi identica fotografia notturna qui c'è poco da dire secondo me questa va benissimo così perché abbiamo non ho informazioni sull'immagine quindi non so se è una multiesposizione o se è uno scatto singolo presumo sia una multiesposizione però devo dire funziona va bene così il cielo è perfetto la terra è un po' scura però è una silhouette quindi secondo me va benissimo così mi domando se ci fossero state angolazioni migliori io la casa così frontale forse non l'avrei fatta forse avrei cercato di prenderla isometrica dall'angolo però forse c'erano impedimenti di vario tipo globalmente la foto funziona e qui ci sono stato anch'io questa è una bellissima cappella che sorge nel nulla praticamente in Toscana una bellissima passeggiata sotto il sole a me non piace tanto il sole però in questo caso devo dire la foto è molto molto bella e mi sembra anche perfettamente dritta qui sono abbastanza sicuro che sia un HDR perché un controsole così abbastanza clamoroso se non è un HDR sono abbastanza sicuro che lo sia ben fatta niente da dire niente persone composizione perfetta cielo bellissimo esposizione giusta su tutto il fotogramma questa è molto bella questa forse sostituisce la mia nuova preferita di tutte quelle che abbiamo visto finora cantine antinori io qua non ci sono mai stato bello scatto bella architettura sembra anche dritta vedete che si possono fare dritte col minimo sforzo esposizione perfetta orario del giorno in cui è stata scattata non so se sia l'ideale magari un po' prima un po' dopo poteva cambiare qualcosa però globalmente bella foto mi piace anche che ci sia l'acqua in terra che crea un po' di riflesso c'è il cielo perfettamente blu dietro forse è stato usato un polarizzatore per tirare fuori quel cielo mi domando niente da dire bello scatto recupero delle ombre secondo me troppo troppo in uno scatto col sole così radente io mi aspetto delle ombre cattive mi aspetto delle ombre nere più dense le avrei volute vedere più dense così come avrei voluto vedere più saturazione nei colori funziona eh il cielo è bellissimo la simmetria funziona però sul trattamento avrei voluto vedere ombre un pochettino più profonde e una saturazione tirata un pochettino un po' più fuori perché questo cielo mi sembra quasi un po' slavato ed è un peccato io l'avrei tirato più fuori e poi c'è anche da dire che ok siamo lì la scena si presenta in questo modo lo scatto funziona però a livello di racconto secondo me racconta molto poco ci fosse stato qualcosa messo lì in primo piano magari scattare un pochettino più dal basso con non so vi sta la zona un sacchetto di riso in primo piano una bottiglia di vino qualcosa mi avrebbe tirato più dentro nel racconto so che è difficile però è un esercizio io avrei provato a mettere qualcosa che raccontasse qualcosa di più in primissimo piano a Bologna e questo è un bello scatto di di stritta Bologna bello composizione perfetta con il trenino da una parte questa persona che attraversa bellissimo il richiamo rosso sul trenino e rosso sullo zainetto bella questo è un bello scatto vorrei qualche delucidazione su come è stato realizzato ma qui penso proprio che sia scatto singolo fatto al volo run and gun perché qui non c'era altra possibilità bello su questo niente da dire ve lo dice uno che la street la detesta quindi secondo me questo funziona molto bene qui abbiamo una situazione berlino abbiamo questo murale molto molto invasivo con dei bambini che giocano sotto la foto funziona molto bello a livello cromatico i colori funzionano è pure dritta quindi ho veramente poco da dire io che sono stato a berlino una volta sola per lavoro faccio fatica a capirla cioè non capisco bene il contesto sì campo da basket bambini che giocano come posso fare a dirla questa cosa a livello di racconto faccio fatica a capire perché non vivo la città di berlino quindi non la conosco abbastanza bene sicuramente e quindi faccio fatica a entrare in una foto del genere mi sembra che sia solamente la cattura del murales con i colori capito cosa voglio dire cioè faccio fatica a entrarci vedo il murales dico ok bello belli colori però mi fermo lì non riesco ad andare oltre probabilmente ci sarebbe dell'altro ma io non riesco ad afferrarlo e quindi mi sembra solo la foto di un murale poi probabilmente anzi sicuramente ci sarà di più qui siamo di nuovo a berlino questa mi piace tanto come tutte le le simmetriche molto ampie dove si vedono mi piace mi piace come è composta mi piace anche com'è post prodotta anche se di nuovo io le ombre le avrei aperte un po' meno avrei tenuto dei neri un pochettino più densi e questa secondo me è molto bella e mi rendo conto che scattata così è giusta perché non si poteva scattare dritta questa però io l'avrei raddrizzata in post quei due palazzi li avrei raddrizzati in post secondo me veniva fuori meglio e si può ancora fare in post si può ancora raddrizzare l'avrei fatto in post anch'io qui mi sembra di capire che sì Amsterdam qui siamo in Olanda bello bella composizione da postazione sopraelevata qui una posa lunga con l'effetto l'effetto seta sull'acqua e sul cielo sarebbe stata ancora più bella e qui secondo me si poteva fare questa mi piace tantissimo abbiamo una bella composizione con questi germani reali mi sembra tutte femmine che stanno qui a prendere il sole con dietro un mulino questa è molto 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 bella mi rendo conto che con gli animali non è sempre facile perché se ci avviciniamo tanto poi si infastidiscono e se ne vanno io avrei provato a fare un passettino a sinistra in modo da avere il mulino da una parte e i germani che riempissero più l'altro lato della foto perché c'è un attimino di buco lì secondo me però probabilmente c'è stato anche il tentativo e poi queste si sono infastidite e se ne sono andate quindi non si può avere tutto fotografia di Amsterdam il canale non c'è molto da dire su questa foto perché è esposta bene funziona secondo me il fatto che l'orizzonte sia storto dipende dal fatto che il canale è storto perché me la ricordo Amsterdam non è dritta per niente quindi a livello tecnico secondo me va bene di nuovo mi racconta molto poco al di là del fatto che ora sappiamo che il fotografo è perfettamente in grado di fare un'esposizione bellissima con sia la terra che il cielo esposti magnificamente però mi racconta poco sono proprio le facciate faccio fatica a emozionarmi con uno scatto di questo tipo è uno scatto documentale della città ci può stare ma non mi emoziona questa mi piace molto di più gran classico di Amsterdam le biciclette vedete quanto cambia quando abbiamo qualcosa in primo piano voi immaginatevi questa foto tutte quelle di cui ho parlato prima in cui dicevo che volevo qualcosa in primo piano voi immaginatevi questa stessa foto se fosse stata fatta con la balaustra qua quindi tagliando fuori le bici fosse stato solo canale con il cielo dietro dici sì bella però non capisco non mi racconta niente è solo il canale invece così così diventa racconto così è il simbolo di Amsterdam la bicicletta col canale così è molto più potente come sempre esposizione fantastica trattamento dell'immagine molto buono mi piacciono molto anche i colori diciamo che in questo caso devo dire l'esposizione non è mai stata un problema perché l'esposizione è sempre fatta al meglio delle possibilità quindi veramente complimenti per le esposizioni secondo me cose su cui lavorare le verticali se le verticali fossero state dritte nella maggior parte dei casi secondo me sarebbe stato meglio e tra l'altro questa è l'ultima foto di questo portfolio quindi è stato lunghissimo ci siamo presi un po' di tempo per esaminarlo tutto cose secondo me su cui migliorare sono veramente poche come dicevo le verticali se fossero dritte secondo me sarebbe sempre meglio in molti casi se come in quest'ultima foto se ci fosse qualcosa in primo piano che mi introduce al paesaggio che sto vedendo dietro la foto sarebbe ne risulterebbe più potente quindi da questi punti di vista secondo me le cose da migliorare sono veramente solo queste perché per il resto ci siamo poi secondo me un po' più di selezione perché c'erano un paio di scatti quegli scatti molto illustrativi molto didascalici con magari solo il paesaggio in lontananza o quello con solo la panchina possono essere appaganti per l'occhio a livello compositivo e cromatico però secondo me a livello di portfolio dicono molto poco e dicono poco anche del posto tecnicamente sono corrette perché uno dice ma io l'ho composta simmetrica le linee sono la composizione è giusta la regola dei terzi è rispettata la disposizione è giusta sì ma mi raccontano così poco se non proprio il fatto che ero lì mi raccontano così poco che io francamente in un portfolio in una selezione come questa io le avrei tolte le avrei tolte perché così avrei lasciato solo le immagini più forti sono ovviamente come ben sapete sono sempre solo le mie considerazioni quindi lasciano il tempo che trovano e non è assolutamente un giudizio apodittico cioè io vi dico la mia opinione vi dico cosa io avrei fatto di diverso in questi video che sono veramente troppo troppo lunghi per cui per i prossimi candidati vi prego mandatemene un po' di meno se era detto tra le 5 e le 20 queste secondo me non le ho contate ma secondo me erano più di 20 forse è meglio se me ne mandate tra le 5 e le 15 perché sennò diventa veramente troppo troppo lungo e poi mi rendo conto che diventa anche difficile da seguire da casa con questo signori io vi saluto vi do appuntamento al prossimo episodio di questo format fatemi sapere in un commento se continuo a piacervi perché di solito vanno male a questi video quindi mi domando se mi convenga continuare a farli visto che poi ho veramente la sensazione che li guardi chi ha partecipato e veramente pochi altri fatemelo sapere in un commento vi ricordo anche di iscrivervi perché non faccio solo critiche ma parliamo anche di strumentazione e di tecnica quindi il bottone è subito qui sotto io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.